Bene, oggi un canto che si intitola Eima di Gino Paoli, per me è un canto molto potente, mi ricorda un campo di reparto a Campone, ambientato a Patragna, una cittadina, un piccolo paesotto immaginario in cui assieme ai miei compagni di reparto, ai miei amici esploratori guide di reparto Tre Tramonti, abbiamo un po' messo un seme, diciamo, che forse è cresciuto e forse adesso è un bell'albero. Bo, direte voi, diranno i posteri se quest'albero è un albero buono o marcio. Io penso che sia abbastanza buono. Niente, passiamo alla canzone. Dimi, ma è vero che tutti gli altri sono uguali a me? E no, non è proprio così. Ehi, ma è vero che chi è bianco è più forte di me? E sì, sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è forte di me? E sì, sarà sempre così. E' vero che il colore è solo luce e la luce è la speranza e che siamo non più. Ehi, ma tu dici che Cristo all'anima uguale a me? E sì, nera come te. Cristo all'anima di un arlecchino, tutti i colori dell'arcobaleno. E sì, forse proprio così e sarà vero che il colore è solo luce. E la luce è la speranza e che siamo noi la speranza camminando noi verso il sole e dentro il sole che salirà. Nero può essere bandiera per un'idea libera e vera. Ehi, ma un giorno verrà che Caino non ammazzerà il nostro fratello mai più. Caino non ammazzerà il nostro fratello mai più. E se il colore non avrà il colore sarà figlio di un professore. E sì, sarà sempre così. Sarà vero che il colore è solo luce. e la luce è la speranza e che siamo noi la speranza camminando noi verso il sole e dentro il sole che salirà. Buona serata a tutti.